Ben ritrovati, il film di oggi è Revenant, re di vivo di Alejandro González in Arritu con i protagonisti Leonardo DiCaprio e Tom Hardy. Il film è molto noto, è questa vicenda di questo esploratore e guida che è interpretato Leonardo DiCaprio, si chiama Hugh Glass, la storia si ispira ad una storia realmente accaduta. Lui deve guidare una spedizione di cacciatori che con un carico di pelli devono far ritorno al forte in condizioni climatiche invernali nelle zone più nordiche e più fredde degli Stati Uniti dell'America e con condizioni climatiche ostili, condizioni ambientali difficili proprio anche perché montagne, lago, fiumi e così via ma ci sono anche altri pericoli, gli animali, gli indiani che abitano la zona e la stessa compagnia dei cacciatori è una compagnia in fida, in particolare per Glass il quale ha una disavventura nel circolare nel bosco, incontra un orso e viene ferito gravemente e da qui nasce appunto il vero dramma e il dramma ha a che fare soprattutto con quello che faranno alcuni dei suoi compagni a lui e la situazione che si crea in conseguenza di questo. La morale è che in realtà lui viene poi creduto morto e tuttavia la storia che viene narrata è proprio quella di lui che invece attraversando dolore, sofferenza, situazioni impervie riesce a sopravvivere e fa ritorno, ecco il titolo. Il ritorno è appunto il ritorno, The Revenant è colui che ritorna dal mondo dei morti perché lui per i suoi amici, per i suoi compagni di avventura è in realtà qualcuno che è morto. Allora qui in realtà il film consentirebbe di aprire un tema affascinante che è quello appunto dello spettro, di quello che appunto si può chiamare il Revenant come dice Derrida in Spettri di Marx. Il Revenant è appunto colui che torna dall'aldilà portando in realtà con sé l'ansia di giustizia e lui ha subito un'ingiustizia, l'ha subita lui e l'ha subita la sua famiglia. Torna portando l'istanza di ciò che non va nel mondo dei vivi e che ammonisce i vivi che queste ingiustizie non resteranno impunite. Sono invece fonte di reazione, di una reazione comprensibile, giusta, giustificata, che lui incarna. Allora questo tema appunto a cui Derrida ha dedicato un ampio studio in quel libro che si chiamava Spettri di Marx che appunto evoca l'incipit di quel manifesto che cominciava appunto uno spettro per si aggira per l'Europa. Ecco questo spettro in realtà dice Derrida è lo spettro in generale dell'ansia di giustizia, del desiderio di equilibrio, della fedeltà alle promesse, qui c'è una promessa che viene tradita, insomma di ciò che cerca di immaginare una società che funzioni, in cui l'iniquità sia tolta. E chi torna, lo spettro appunto, è uno spettro che non può che essere vendicativo. Allora Ignaritu comprende questa tensione e fa di Glass una figura che da un lato incarna la giustizia fin troppo, perché è molto politicamente corretto questo personaggio, subisce violenze eccetera eccetera, ma nella storia vera non c'era un dettaglio che invece è significativo. Nel film Glass ha un figlio, un figlio mezzo sangue, avuto appunto con una donna indiana e questo fa di Glass il palladino anche di una tolleranza, di una coabitazione, di una convivenza, di una mescolanza delle razze, che fa appunto di Glass per noi spettatori un personaggio perfettamente politicamente corretto. E quando torna, torna appunto a vendicare l'ingiustizia e la vendetta è, qui forse anche l'errore, è veramente una vendetta brutale, non c'è tanto l'ansia di giustizia, quanto veramente la vendetta personale, anche se poi l'ultima vendetta viene ceduta da Glass ad altri, ma insomma c'è troppo l'elemento di vendetta come unica forma di giustizia che ci venga ricordata da chi ha visto l'altra parte della vita. E d'altra parte il contesto del film è quello di un film che celebra soprattutto con molti dettagli, appunto anche di primo piano, sul dolore, sulla sofferenza, sulle ferite, celebra soprattutto la resistenza al dolore, l'epopea di questa sopravvivenza in condizioni impossibili. Ecco, paradossalmente, per un film che doveva celebrare il ritorno dal mondo dei morti, questo film celebra troppo la capacità di resistenza nella vita del protagonista. e per questo non funziona, secondo me. Cioè manca di sottolineare il paradosso su cui si doveva reggere la sceneggiatura, che è una sceneggiatura, secondo me, debole, Glass di Caprio emette troppo pochi suoni dotati di senso, cioè non parla, grugnisce per lo più, e questo non aiuta, forse non aiuterà, ahimè, di Caprio a prendere l'Oscar, e quindi, insomma, è un film che ha dei meriti, un'ottima fotografia, un'idea buona, ma che forse non la conduce veramente fino in fondo. Provate ad andare a vederlo, magari avrete un'opinione diversa. Arrivederci, alla prossima settimana.